Luca Bizzarri, famoso personaggio appartenente alla TV italiana, al vetriolo su Twitter. In particolare il buon comico genovese avrebbe scritto Rocco Casalino si è messo nell'inquadratura l'ha fatto apposta. Nel pomeriggio di ieri il presidente del consiglio conto ha parlato della fase 3 in conferenza stampa ed è arrivato a stretto giro un tweet da parte del buon Luca Bizzarri che avrebbe notato qualcosa di atipico nell'inquadratura. In particolare il comico avrebbe scritto ma questa inquadratura che ve lo dico perché il mio mestiere è studiato apposta per far entrare Casalino in inquadratura. È tutta sbilanciata perché non rende tutto cramolosente ma cramolosente ridicolo così avrebbe scritto Luca Bizzarri. Tra i tanti commenti da parte dei followers ce n'è stato uno che ha molto colpito l'opione pubblica ed è il seguente ma nella vita un portavoce si è fatto inquadrare in mente della parola a un giornalista per la domanda. Tra favore però c'è anche chi non è d'accordo con Luca Bizzarri e avrebbe detto che la quadratura è fatta per far entrare i quattro altri. Insomma, chissà chi ha ragione se è Bizzarri o altri followers. Grazie e il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto da Leandro Narrato Italiano.